Ciao a tutti, sono Federico Pizzarotti. Ho voluto inaugurare questo nuovo canale del Comune di Parma proprio per cercare un collegamento diretto con tutti i cittadini. Oggi siamo qui per presentare il primo membro della nuova giunta, quindi l'assessore al bilancio. Il nostro assessore al bilancio sarà Gino Capelli, una persona che ha un curriculum di tutto rispetto e che abbiamo scelto sulla base delle competenze. Le competenze che ci saranno preziose in questo lavoro in Comune, noi siamo partiti proprio dal bilancio perché va fatto capire a tutti i cittadini. Abbiamo già iniziato un lavoro che ci potrà permettere in un lasso di tempo sufficiente di fare un punto zero e far comprendere a tutti i cittadini quali sono i punti da cui si snoderà la nostra azione. Sarà un'azione che sarà da fare tutti insieme, cittadini, istituzioni, istituti di credito e tutte le realtà industriali della nostra città. Questo è molto importante perché per uscire dalla situazione in cui ci troviamo dovremmo lavorare tutti insieme. Quindi io vi ringrazio per questa prima comunicazione, ne seguiranno delle altre. Ciao a tutti.